Non ce fate caso, non ce fate caso E lo so, e capita, a volte ci avete anche voi il plurito E io ce l'ho, mi tocco qui sotto, non male che non si vede Perché, insomma, cose che capitano, eh Cioè, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro Insomma, perché è ufficiale, ci mancherebbe altro Che io questo gesto non me lo possa fare A parte gli scherzi, datemi un voto da 1 a 10 per questo colpo Ormai ufficiale, perché adesso, ragazzi, mancano le visite mediche Non vorrei che adesso va lì, ammazzava alcuno, ma ammazzava al che medico Quando si presenti, ma A parte gli scherzi, datemi un voto da 1 a 10 per questo colpo della Juventus Aaron Ramsey, ne parleremo tanto, ma altre due cose Qui sotto nei commenti direi l'hashtag inevitabile Tocchiamoci le palle Eh, perché se non te le tocchi, sei fritto, eh Con lui, non si scherza, adesso si sposta in Italia Non vorrei che, eh Insomma, dai, manteniamo la calma E altra cosa, dopo, eh, insomma, aver scaricato il primo link in descrizione OneFootball, la migliore app del calcio per iOS e Android, soprattutto in questo momento del calcio mercato A fine video, ricordati che verso le tre, farò la mia prima live streaming su Twitch Quindi se vuoi passare anche per un saluto, due minuti, cinque minuti, a me farebbe piacere Poi la vera live ci sarà venerdì alle sette, te l'ho già detto, ma lo sai Niente, eh, basta, parliamo di sto colpo Dai, che me sto aggrattando, ce la faccio più Prima di iniziare il video, l'app di OneFootball nel primo commento Scaricatela, perché è la migliore app del calcio E quindi, fatelo, adesso Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Sì, è ufficiale, mancano visite, firme, è uguale Ci siamo, dai, se dovessi saltare allora è una maledizione E mi verò scusare dopo questo video, insomma, la prossima settimana Arnold Ramsey, io do personalmente un 8 Per molti Arnold Ramsey è il giocatorino che la Juventus potrebbe anche evitare Perché si può puntare ai grandi nomi Ragazzi, se analizziamo il colpo in sé per sé La Juventus pare proprio averlo preso per sostituire come gioco di incastri Sturaro Sturaro va al Genoa, ne prendiamo un difensore Perché ne abbiamo alla fine, senza barzagli, 4 E a quel punto, bam, via centrocampista Dentro un nuovo centrocampista Poi si sa, ovviamente, a stagione nuova A mio parere, ora non lo so quando scadere il contatto di questo giocatore Ma che dia, potrebbe fare le valigie E proprio toccatevi le palle Perché, oltre al fatto di quella coincidenza con il gol Ramsey si infortuna spesso Questa cosa non la sapete Ma comunque, bisogna dirla E a centrocampo i giocatori fragili hanno un pochino rotto le palle Ecco, diciamolo tranquillamente Oltre a toccarle, ce le rompono La cosa che mi fa un attimo riflettere è Ramsey È un colpo per Allegri Allegri resterà un altro anno sulla panchina della Juventus? Questo non vuol dire che io non ho voglia tenere Però ogni anno fra un po' cominciamo a chiedercelo Perché gli allenatori quando durano più di 4-5 anni Ogni anno pensi sia l'ultimo Ramsey può fare trequartista Mediano Anche regista a volte Gioca in una squadra dove Essenzialmente non vinci i titoli Quindi non è un giocatore che ha l'esperienza di alzare le coppe Nelle partite che contano Non ti gioca alle finali Ti avrà vinto la FA Cup Oh, ok Una o due volte Ma non ha vinto la Premier Che io ricordi Non ha alzato Champions League Giocato finali clamorose Quindi Nel senso Se io vado a prendere però i numeri di Ramsey Su Wikipedia Ti dico che ha fatto Con la maglia dell'Arsenal 35 gol in 238 presenze Che possono essere anche abbastanza Per un giocatore che insomma Non ha l'obiettivo di segnare L'Arsenal è una squadra sempre criticata Per come difende Lui si può anche Tirare fuori da queste colpe Ha fatto esempio Nella stagione scorsa 7 gol in 24 presenze Il che vuol dire ottimi numeri Nel 2013-2014 10 gol in 23 presenze Quindi insomma Quei 5-6 gol Ti li può garantire Anche alla Juventus Questo non si sa L'Arsenal è una squadra decisamente Con un assetto più offensivo Della Juventus Però lui In questo tipo Può trovare spazio Sia perché Chedira Non è al massimo Sia perché adesso È il centrocampo Il ruolo più debole nostro Ho avuto molto piacere De leggere poi I vostri commenti Sul video di scambio Di Bala a Mbappé Dove Paradossalmente A differenza di quello Che diceva il vero sondaggio Ha vinto Di Bala Cioè Contare più su Di Bala E non preferire Mbappé Ma me lo immaginavo Cioè Come può un tifoso Della Juventus Poter dire Per la maggioranza Mi libero di Di Bala Per prendere Mbappé Proprio Quello che è il numero 10 Quello che insomma Vorresti vedere Più anni In una squadra di calcio Senza vedere questi giocatori Che arrivano e vanno Sempre ogni volta Poi Mi avete anche detto Che dovesse arrivare Al posto di un altro Magari sarebbe meglio Però quello È un discorso anche Che poi la Juventus Quanto lo paghi Questo giocatore Effettivamente 6 milioni e mezzo Sono tantissimi Perché tu Hai risparmiato Su cosa? Sul prezzo del cartellino Pare che altre squadre Gli avessero offerto di più Però Quando tu hai Ronaldo In squadra È normale che È una mossa Scacco della Juventus Che permette a molti giocatori A parità di offerta O anche con qualcosina di meno Di scegliere la Juventus Che poi Ramsey Non credo Che a Larsen Prendesse meno di 6 milioni e mezzo Quindi è un'offerta Anche abbastanza importante Quella della Juventus Che offre una cifra Importante Era quasi quello Che prendeva Iguain E quasi quello Che prende Di Bala Ora gli Magli Fanno un contratto Che offriranno di più Non lo so i numeri esatti Però È da top Della Juventus Questo stipendio E si fa sentire È più giovane di Chedira Sì Faccio un confronto con lui Perché immagino Che il prossimo anno Sia tra i vari nomi Uno dei primi A poter abbandonare la Juventus Non che Pjanic In questo momento Si possa sentire Su una nuvola Dell'Olimpo Per essere sicuro Del posto alla Juventus Però Comunque Sarà poi Il mercato di giugno 2019 A farci capire Chi potresti prendere Oltre a Ramsey A centrocampo Perché io Dubito che la Juventus Si possa accontentare Di questo colpo Per dire Il centrocampo Del prossimo anno È a posto così Dubito perché Ci saranno dei movimenti I Pjanic L'anno scorso Era un bilico Da altre squadre Il prossimo anno Ritenteranno un assalto Non sta convincendo molto Quindi adesso il prezzo Potrebbe calare Le richieste per lui Sicuramente Di certo non vi parlo Di una cessione Di Matudì Chan e Bentancur Perché sono arrivati da poco E la Juventus Ovviamente punterà ancora Su di loro Quindi avremmo Un centrocampo Sicuro Nel prossimo anno Con quattro centrocampisti Di cui Chan Bentancur Matudì E questo qua Poi Pjanic Che dire Li metto un attimino così Sono quelli da più anni Alla Juventus Che dire da un anno prima Se non sbaglio Di Pjanic Se non sbaglio Sì sì esatto Quando è l'ultimo anno Di Pogba Poi arriva Pjanic E insomma Pjanic invece È la terza stagione Se non sbaglio Con la Juventus Quindi Ne riparleremo Questo più avanti Dovesse fallire Tutta questa operazione Farò un video Scusa Ma Cristo Santo Più che dire Toccatevi le palle Hashtag Nei commenti Non posso farvi altro Mi raccomando Finito questo video Verso le 3 Venite su Twitch Che sono in live Anche per un saluto E andate a lasciare il follow Perché Dai Lì parliamo anche di calcio Ogni tanto Quando capita Un po' spartita Potrei anche fare qualche live reaction Sulla Juventus Lì Cosa abbastanza particolare Che non fanno in molti Ci vediamo Bella Tu con le palle Cazzo Questo ci ammazza tutti